C'è la possibilità di intervenire sul Castel dell'Ovo, rendere l'ansia di famosia Campino? Ogni volta che vengo a Napoli vedo qualche cosa di nuovo che merita intervenire, risorse, disponibilità. Oggi mi hanno parlato alcuni parlamentari di Villa Floridiana, che è davvero un intervento che l'ha fatto, è un polmone verde per tutta la parte importante di Napoli, quindi ragioneremo come fare sia in termini di risorse che in termini di gestione. E poi questo posto è fantastico, io l'avevo già visto non così approfonditamente, è un posto bellissimo, è del De Magno, stiamo già ragionando con il De Magno per avere una possibilità che si trasferisca i beni culturali e poi insieme al Comune decidere per un recupero pieno, anche per una funzione pubblica più, un luogo straordinario, e per portare già tanti turisti a portarne molto di più con gli spazi umani.